Qual è l'orario migliore per pubblicare su LinkedIn? Molti mi chiedono sempre quando devo pubblicare. Esistono degli orari migliori, esistono dei giorni migliori in cui ci sia maggiore visibilità o maggiore engagement? Ovviamente la risposta è che non esistono i giorni migliori. Fino a un po' di tempo fa si diceva dal martedì al venerdì o la mattina presto o durante l'orario di pranzo perché più probabilmente le persone il lunedì guardano le mail, il venerdì hanno già la testa per il weekend, durante la giornata riescono a vederli o mentre vanno a lavoro oppure nella pausa pranzo. Tuttavia basta pensare che se questi fossero davvero gli orari migliori tutti pubblicherebbero in quegli orari e quindi ci sarebbe un'enorme quantità di post e quindi un'enorme concorrenza con una diminuzione di visibilità perché le persone saranno sempre le stesse con lo stesso tempo e la stessa attenzione. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna testare, ovvero andare a vedere quando le persone del mio network sono più presenti perché lo sappiamo l'algoritmo funziona in base all'engagement che io riesco ad avere nei primi minuti, nella prima ora e quindi molto importante che ci siano già persone attive su LinkedIn nel momento in cui io vado a postare. Questo significa provare, non esistono i tempi migliori, molte volte per livelli più alti può andare bene anche il sabato e la domenica perché magari avendo l'app davanti guardano anche durante il weekend, cosa che andava anche molto bene durante il periodo pandemico. Ad oggi bisogna andare a guardare, a volte anche la sera può essere un buon momento, ma anche durante la giornata in cui comunque le persone vanno a vedere e c'è meno concorrenza. Quindi il consiglio è proviamo giorni diversi, proviamo orari diversi e proviamo argomenti e tipologie di post differenti in modo da vedere quali sono quelli che funzionano meglio. In generale un buon mix e farlo in giorni differenti può essere d'aiuto. Ovviamente guarderete nei post la vostra visibilità, quindi le vostre statistiche. Spero che il video vi sia stato utile, io vi aspetto come sempre nei commenti sul canale YouTube e potete contattarmi per formazione e consulenza LinkedIn. Buona giornata! Buona giornata! Buona giornata!